E' l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Un incredibile paradosso. Così i carrozzieri di Confartigianato definiscono quanto previsto dal disegno di legge concorrenza in merito alla riforma della RC Auto che priverebbe gli automobilisti della libertà di scegliere l'officina dove far riparare l'auto incidentata. E domandano che liberalizzazione è questa. I carrozzieri di Confartigianato non ci stanno a subire l'ennesimo tentativo di consegnare il mercato delle riparazioni auto nelle mani delle assicurazioni in nome di una presunta liberalizzazione. Tentativo che è scritto nero su bianco nella riforma dell'RC Auto contenuta nel disegno di legge concorrenza presentato dal governo il 20 febbraio scorso. La categoria è partita quindi a contrattacco e nell'Assemblea Confartigianato tenutasi a Roma ha proclamato lo stato di mobilitazione contro le minacce alla libertà di scelta dei consumatori. E' partita quindi l'ennesima battaglia dei carrozzieri sul fronte parlamentare con una serie di proposte di modifica alle norme del disegno di legge. Il nodo centrale da correggere riguarda il cosiddetto risarcimento in forma specifica. A giudizio degli operatori artigiani infatti i consumatori devono poter scegliere liberamente l'officina di fiducia presso la quale far riparare il veicolo incidentato e non essere di fatto costretti a rivolgersi, come vorrebbe la riforma, alle carrozzerie convenzionate con le assicurazioni. In tutta Italia si stanno organizzando azioni a livello territoriale per sensibilizzare imprese, consumatori e istituzioni sui rischi della riforma presentata dal governo. Abbiamo programmato, spiega il presidente dei carrozzieri di Confartigianato Vicenza, Roberto Cazzaro, iniziative di autotutela per coinvolgere anche i consumatori e per far capire loro quali sono gli effetti di quest'ultima provocazione delle compagnie di assicurazione, che colpisce pesantemente le carrozzerie indipendenti e anche gli interessi dei cittadini, che non potrebbero più decidere liberamente a quale carrozziere affidare l'auto da riparare. In quest'ambito, continua Cazzaro, sabato 28 marzo a Vicenza si terrà un convegno regionale rivolto a carrozzieri, periti e consumatori, a cui sono invitati anche i parlamentari veneti. Iniziative a tutto campo, quelle decise da Confartigianato, in nome di un settore che conta oltre 18.000 imprese artigiane e che negli ultimi anni ha subito pesantemente gli effetti della crisi. Basti dire che nell'ultimo anno il numero delle carrozzerie è diminuito dell'1,6%. Grazie per la felicità!